E' finito, è finito! Mille foto! No, no, questo è proprio un video! La mandata è fatta! E' saturo il ragazzo! E' il giovane! C'è un sapore! C'è un sapore, questo è un grиновato, e un sapore animale! E un sapore, quello che ha la prima, e un sapore? E un sapore? a un sapore e un sapore? E un sapore?